Doveva vincere e ha vinto il Tolentino. I Cremisi hanno avuto ragione dell'Urbino grazie alla rete realizzata da Tonici al 37esimo del primo tempo. La compagine di Mobili ha meritato la vittoria al termine di un match dominato, nonostante abbia giocato in inferiorità numerica per più di un'ora. Partita che si era messa forse nel modo migliore, perché dopo l'espulsione del giocatore loro intorno alla mezz'ora del primo tempo la potevamo gestire diversamente. Non siamo stati capaci, il Tolentino è stato più bravo di noi, quindi è giusto che abbia vinto. Nonostante noi abbiamo creato, abbiamo cercato, però il Tolentino ha già messo più passione, più cuore e alla fine ha portato avanti questo risultato con merito.